La UISP direi in primissima fila di questa prima edizione delle Olimpiadi Metropolitane credo sia una bellissima iniziativa in un momento in cui lo sport ha bisogno di ripartire. Credo sia più che altro un segnale, un segnale di vicinanza delle istituzioni alle società sportive, agli enti di promozione, alle federazioni, al CONI ed è un modo appunto per far vedere che le istituzioni ci sono e in qualche modo danno un contributo alla ripartenza dello sport. Quanto è stato difficile mettere in piedi un'organizzazione del genere anche in considerazione del Covid? Direi sì, abbastanza complicato, abbastanza complicato anche perché questo è un periodo in cui effettivamente le squadre ricominciano a giocare e quindi hanno loro impegni e quindi è stato abbastanza faticoso assemblare le date che potessero andare bene a tutte le società che si sono iscritte a questa Olimpiade. Però lo facciamo con molta passione perché credo che sia importante che tutti facciamo la nostra parte perché si possa tornare, come dire, alla normalità.